Buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Quest'oggi ospitiamo il Movimento 5 Stelle nella persona del Consigliere regionale Andrea Quartini. Buonasera. Allora Quartini, parleremo principalmente di sanità, un tema che la interessa da vicino sia lavorativamente ma poi anche naturalmente nel suo lavoro che svolge alla Regione Toscana. Però partiamo anche da una notizia, insomma, anche per poi darla a casa a chi ci ascolta che è quella di una maxi-inchiesta di fatto che si sta sviluppando intorno all'ANAS Toscana. Sono tre cantieri sotto inchiesta ma in realtà la Procura Fiorentina vuole vederci chiaro perché a quanto pare in un giro di 24 persone indagate e circa 70 sopralluoghi fatti già nella giornata potrebbero essere molti di più in realtà i cantieri sotto inchiesta. Di cosa si parla? Come spesso accade si parla di mazzette, un 5% circa a quanto pare su ogni appalto quello che veniva dato proprio nel giro che accadeva tra imprenditori e gli altri finiti ai domiciliari. Sono ben quattro le persone infatti finite ai domiciliari tra cui il capo di compartimento di ANAS Toscana Antonio Mazzeo, il capo servizio amministrativo di ANAS Toscana Roberto Troccoli, il funzionario Nicola Cenci e l'imprenditore Francesco Mele. Le decine di quei perquisizioni, come dicevamo, naturalmente tutto è ancora in divenire quindi eventualmente vi aggiorneremo anche nel corso di questa puntata. Naturalmente nei prossimi giorni volevo però avere subito un commento da Andrea Quartini perché insomma pare che in Italia quando si parla di cantieri e spesso quando si parla di cantieri emergenziali come quelli che riguardano questa inchiesta e quindi soprattutto quelli che derivano da opere da dover fare dopo il maltempo, dopo il maltempo a causa dei danni, spesso si assiste a queste situazioni qui. È un po' un must questa cosa. Perché secondo lei? Intanto grazie dell'ospitalità che è sempre un grande piacere essere con voi. diciamo che siamo alle solite, cioè ci si muove sempre su un sistema emergenziale che consente di attribuire appalti spesso anche senza bando, pilotati dai soliti noti e quindi eccoci di nuovo. Questo avviene soprattutto sulle grandi opere e sulle opere che hanno a che vedere con le infrastrutture essenzialmente. Ecco, questo è uno di quei casi. Chiaramente è una notizia attuale, recente, quindi vediamo gli sviluppi, ci mancherebbe altro da trarre conclusioni affrettate. Ogni situazione va vista in se stessa, però il quadro generale è questo. Ormai la politica ci ha abituato all'emergenza continua, siamo all'emergenza sugli ungulati, siamo all'emergenza sui migranti, siamo all'emergenza sulle infrastrutture. E questo quadro di incapacità del sistema amministrativo di fare programmazione si vede a tutto tondo, nel senso che anche la TAV, Cantone ci ha insegnato che si pesca nel fango. Stesso discorso per l'aeroporto, abbiamo fatto una via, una valutazione di impatto ambientale su un masterplan e non sul progetto definitivo. Insomma, è quasi tutto disegnato come per l'emigrazione, per lavorare in emergenza. Perché in emergenza siamo giustificati a far tutto e allo stesso tempo non c'è bisogno di seguire le procedure e la legalità. Questo è uno dei grossi problemi dell'Italia. Allora, poi per chiarezza...